Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Massimo Contri, arrivo da Mantua, in un minuto qua in trasferta a Torchierolo, abbiamo una delle mie macchine, Lancia Delta, categoria C, Prodo, in Delta con motore centrale e posteriore. Devo dire che la macchina oggi è andata benissimo, non avevamo dei grandi concorrenti, però mi sono veramente, ma veramente divertito, perché il tracciato per quel tipo di macchine qua è fantastico. C'è il salto, ricorda, una delle più vere piste d'Italia e devo dire che tutta la direzione gara in proprietà del terreno è una famiglia fantastica, ci hanno accolto la grande, quindi consiglio a tutti di fare la nostra scelta qua nel Salento perché veramente ne vale la pena, vi fate qualche giorno qui in zona perché sia il tracciato sia la gente sono veramente in gamma e noi pian piano ripareremo il nostro furgone e pian piano ritorneremo su nella terra di Mantua. Ciao e grazie a tutti. Grazie.